Amici appassionati di business, buonasera, ben ritrovati dal vostro Matteo Vallero per scoprire, per conoscere i segreti del successo degli imprenditori, delle imprenditrici italiane che si affermano nel mondo con le loro capacità vincenti in vari settori. In questa puntata in particolare parliamo del settore del mondo del packaging per il segmento moda con BC Boncar di Bustarsizio, sono con noi Paolo Bonsignore, buonasera, benvenuto. Buonasera Matteo. E Anna Laura Carella, buonasera anche a lei. Buonasera. Rispettivamente amministratore, legale rappresentante e responsabile amministrativo appunto di questa azienda di Varese, della provincia di Varese, BC Boncar. Parto da Anna Laura Carella per quanto riguarda la storia di questa azienda perché è una storia nata nel 1998 quindi ormai il tempo vola da più di 20 anni. Esatto, abbiamo passato i 20 anni, ci siamo costituiti nel 98 proprio con miti pretese. Addirittura la prima sede di BC Boncar è stato il retro di una portineria di 15 metri quadri dove abbiamo iniziato a lavorare per la richiesta del nostro primo cliente che richiedeva del packaging di tipo tessile. Sì, quando si suol dire iniziare nel piccolo, no? Come le grandi aziende che iniziano però da un piccolo laboratorio, un piccolo garage o quant'altro. Esatto, esatto. Questa sistemazione di fortuna è durata più o meno due anni e nel 2000 abbiamo, grazie al cielo, siamo passati a una sede più consona dove potevamo ricevere i nostri clienti e finalmente fare sul serio rispetto all'immagine. Certo, certo. Che anche nel vostro settore è molto importante. È molto importante. Nel 2008 altro cambio di sede sociale e finalmente diamo un senso anche alla produzione e progettazione interna del packaging di tipo cartotennico fino ad arrivare ai giorni nostri dove all'interno dell'attività convivono delle realtà di tipo tessile e di tipo produzione cartotennica manuale. Bene, Paolo Bonsignore, spieghiamo bene di che cosa vi occupate. Abbiamo detto packaging per la moda e allora insomma chiariamo un po' questo aspetto. Sì, allora noi produciamo, progettiamo e creiamo packaging per la moda. Noi dividiamo in due macro settori che sono appunto il settore tessile e il settore della cartotecnica. Abbiamo aggiunto diciamo delle novità perché abbiamo combinato e anche produciamo packaging che sono una combinazione di tessile e di cartotecnica insieme. Questo è quello che noi sostanzialmente facciamo all'interno di questa società da più di vent'anni. Tanto mentre lei sta spiegando ci sono delle immagini che stanno anche dimostrando quello che lei dice, oltre al fatto che proprio qui vicino a me, queste due scatole ne sono già un piccolo esempio. Esatto, quello è un piccolo esempio. Questo in questo caso specifico è un esempio di quello che si diceva tessile e cartotecnica, cioè struttura di tessuto e parte rigida rotonda. Alzate un pochino Paolo così si vede bene anche in camera. In pratica è una situazione di questo tipo dove può essere utilizzato, non è un packaging fine a se stesso, ma che può essere poi riutilizzato e quindi diventare anche una borsettina per le ragazze giovani, per tante piccole cose. È nato in questo caso per un settore che era un cinturificio, poi alla fine ha trovato diverse collocazioni, fino ad arrivare anche in questo caso ad esempio per l'occhialeria nello specifico. Questo per l'occhialeria è stato creato una base, giusto per far capire, in pratica qui si inserisce, faccio vedere, si inserisce l'occhiale, ok, questo in pratica potrebbe essere poi con le dovute correzioni, potrebbe essere utilizzato tranquillamente anche nel mondo dell'occhialeria. Quindi qui basta avere un po' di fantasia. L'occhialeria è che tutto ciò che c'è, c'è, esiste, basta solo riadattarlo per trovare una sua collocazione in vari settori. Quindi avete unito questi aspetti, l'aspetto tessile, l'aspetto cartotecnico e il gioco. Esatto, abbiamo creato questa tipologia. Infatti. Potete anche personalizzare poi questi prodotti? Assolutamente sì, non solo li personalizziamo ma possiamo utilizzare materiali diversi, cioè sia il tessuto piuttosto che magari utilizziamo anche delle pelli, piuttosto magari dei tessuti che creiamo anche noi direttamente prodotti a telaio, quindi su specifiche richieste del cliente. Avendo l'estrazione tessile si riesce a creare appositamente dei tessuti anche per il cliente e in questo caso riusciamo a vestire quello che è la box nella fattispecie. Quindi siamo piuttosto duttili. Questa voce in pratica ricorre sempre nel nostro DNA. Questa duttilità si riproduce un po' sia per ciò che riguarda la produzione sia per quanto riguarda proprio il nostro modo di essere e il nostro modo di concepire l'azienda. Anna Laura Carella, un settore, quello del packaging, che in Italia per fortuna vanta, possiamo dirlo, tante realtà di eccellenza come la vostra, voi ritenete di avere qualche freccia in più al vostro arco? Sì, cerchiamo quantomeno di differenziarci dai nostri competitor perché è vero che tutto il mondo italiano è specializzato, tutto sommato nel packaging e fare scatole, fare custodia in tessuto, fare copriabiti lo sanno fare tutte le aziende di packaging. In cosa abbiamo cercato di differenziarci rispetto agli altri? Innanzitutto nel tipo di finiture estremamente dedicate al cliente, nel tipo di servizio da dare al cliente e cioè in controtendenza rispetto a quello che la crisi ha imposto e cioè abbiamo cercato di stoccare per il cliente la merce a magazzino avendo sempre a disposizione delle scorte e puntando sulla logistica e sulla distribuzione capillare ai vari vendors del brand. Questo ci ha consentito nei momenti di crisi di avere quella marcia in più che altri competitor non avevano. Non ultimo l'attenzione alla sostenibilità che è un argomento assolutamente di rilievo oggi più che mai di qualità che attraverso una partnership con un'azienda del settore ambiente abbiamo stretto un accordo che ha fatto sì che il prodotto da noi venduto e prodotto potesse tradursi in crediti di carbonio per la riforestazione in vari luoghi del mondo, tra cui il Madagascar ma anche banalmente il Parco Ticino. Eh sì, perché quando si parla di carta è un tema molto importante. Esatto, ci siamo certificati EFSC e adesso attraverso questa partnership possiamo vantare anche questo marchio che ci consente di ottenere un prodotto green. Avete anche un magazzino molto grande? Sì, abbiamo una sede abbastanza grande e tra poco lo diventerà ancora di più e cercheremo con questo obiettivo di dare anche degli spazi alle maestranze per i loro momenti di pausa. Paolo Bonsignore, anche la logistica per voi, il servizio di logistica personalizzato è una cosa che curate molto? Il servizio di logistica per noi è, noi l'abbiamo definito ultimamente come un tailor made. La logistica per noi è un valore aggiunto, è un valore molto importante e la logistica come sappiamo nelle aziende è un costo, è un costo che pesa in ogni bilancio delle aziende. Noi abbiamo ridotto sia attraverso quest'ultima nostra creazione, questa nostra box che è la Magnum Box in questo caso di Big & Glam come marchio perché contrariamente, esattamente, se posso permettermi di far vedere il meccanismo poi magari lo faccio vedere, ma sostanzialmente in controtendenza a quelle che erano le aspettative di tanti altri dove le box di grande formato venivano abbandonate, noi invece abbiamo prodotto le box di grande formato e ci siamo specializzati in questo settore ispirandoci ad un concetto molto semplice i nostri nonni, i nostri nonni quando viaggiavano con le valigie di cartone quindi è nata prima con le varie corde eccetera che andavano con un sistema di chiusura per le box normale fino ad arrivare a questa che riduce fino a 12 volte lo spazio rispetto alla normale box dello stesso identico formato il vantaggio di questo, quindi in termini di logistica vuol dire risparmio risparmio per le aziende e per il brand significa che è una voce, un asset importante per poter creare e innovare noi facciamo risparmiare in questo senso anche meno inquinamento meno inquinamento, esatto esatto, esatto, esatto e in questo caso per ciò che mi riguarda e approfondisco un secondo quello che è il settore logistica personalmente ogni brand ha una sua specificità e i suoi vendors ai quali poter inviare poi le varie a destinazione le varie merci, addirittura ogni regione ha una sua specificità io personalmente vado a parlare direttamente con le maestranze dei vendors di ognuno per valutare insieme quello che è la situazione migliore per la loro logistica cioè non creiamo un tailor made della logistica non facciamo una cosa semplice, banale come tutti che prendono e depositano la propria merce e quando richiedono viene spedita siamo in grado di fornire un servizio di 12, entro i 12-24 ore su merce prodotta questo ormai è uno studio che abbiamo fatto da oltre 20 anni e lo portiamo avanti con un grande vantaggio la magnum box nello specifico ha il vantaggio che può essere stoccata soprattutto nelle boutique cosa molto importante, viene spedita nelle varie parti del mondo, nelle boutique ci sono dei costi molto importanti per quanto riguarda gli spazi magnum box può essere stesa, confezionata al momento, creare emozione emozione veramente forte davanti al cliente sia anche per la semplicità e facilità di montaggio è estremamente fotoscenica e crea veramente emozione da parte anche di chi lo riceve e la cosa molto importante è che in questo caso essendo una box di un certo livello può uscire il cliente finale direttamente per il centro di Milano, Londra o Parigi con la propria box senza avere bisogno neanche del sacchetto di carta che tra l'altro noi produciamo però in questo caso lo facciamo risparmiare proprio attraverso la magnum box può contenere abbigliamento, scatto? è nata in questo caso per un progetto specifico di pelletteria, poi da qui si sposta per il settore arredo casa può essere per i grandi vestiti, i grandi abiti vestiti da sposa l'arredo casa è un settore molto interessante per noi che può essere assolutamente utile questo tipo di box per il settore dei piumini, i piumini di un certo livello, di un certo tipo perché ingombrano, perché hanno volume quindi hanno necessità di non essere strizzati, la confezione in questo caso avendo dei volumi anche piuttosto importanti può essere resa il capo inserito all'interno, non si stropiccia quindi la presentazione è anche molto interessante ed emotivamente accattivante Anna Laura Carelli, i vostri mercati sono davvero internazionali? Sì, circa il 30% del fatturato nostro è rivolto all'estero, prevalentemente in tracce anche se naturalmente abbiamo ricevuto delle richieste, abbiamo venduto anche per clienti con sede in Australia questo ci ha portato ad avere un'ottima esperienza anche di tipo amministrativo di preparazione delle pratiche per la spedizione in tutto il mondo Vi ha dato anche una forza di questo tipo di esperienza Esatto, ci ha dato anche un'enorme forza Siete molto bravi, l'abbiamo detto tante volte, ma veramente a personalizzare anche i vostri prodotti perché in effetti è una caratteristica, il design, l'aspetto estetico, i colori anche coerenti col brand con cui lavorate Certo, puntiamo tanto sull'immagine coordinata dei prodotti dal cofanetto, alla custodia tessuta, al copriabito, al cartellino, alla cover di presentazione piuttosto che tutta l'immagine che il brand necessita per affermare appunto il suo brand Nel settore della moda servite alcuni tra i brand più importanti Ora non è che vogliamo menzionarli tutti, però per capire le firme che contano Sì, le firme abbiamo l'onore di servire clienti molto importanti del settore moda luxury Non farò i nomi per correttezza, ma li ringraziamo tutti per aver contribuito ai nostri obiettivi di crescita Certo, e si avvalgono di voi proprio perché trovano una coerenza tra il loro standard e il vostro evidentemente Quella è importante Per il vostro futuro avete qualche target, avete già qualche idea in mente? Sì, ci stiamo concentrando attraverso la collaborazione con una nota azienda di marketing specializzata appunto in questo settore Nel veicolare correttamente l'immagine della nostra azienda Per valorizzare quelli che sono i nostri punti di forza Ce ne tanti, quindi come dire, hanno solo che l'imbarazzo della scelta Grazie E da quando siete partiti in quel piccolo laboratorio oggi vi sareste aspettati una crescita così importante? Lo sognavamo, lo sognavamo, questa crescita devo dire a onor del vero che è stata possibile grazie alla collaborazione dei nostri collaboratori interni, esterni, dei nostri fornitori che ci hanno sempre seguito e supportato Il clima aziendale è fondamentale in una logica di collaborazione, noi desideriamo che le nostre maestranze realizzino i loro progetti con le nostre garanzie E questo per noi è motivo veramente di vanto E li ringraziamo proprio tutti in questo momento dato che ce n'è l'occasione La positività di creare anche tanti posti di lavoro nuovi poi, no? Sì Questo è un'altra cosa, vi hanno detto un aspetto etico, un aspetto di attenzione all'ambiente ma anche attenzione poi, non voglio dire sociale ma comunque a quello che è il mondo del lavoro Al mantenimento comunque di famiglie Perché quando si assume un dipendente, sembrerà banale, però si assume una famiglia Una responsabilità Una responsabilità Va bene Chiudiamo in bellezza allora con il vostro segreto di successo, col vostro top secret partendo proprio da Paolo, Paolo Bonsignore Ma il successo è la passione e l'entusiasmo che ci mettiamo sempre tutti i giorni Voglio rimarcare un concetto semplicemente che ad esempio con l'ultima nostra nata, cioè la Magnum Box Abbiamo creato un'altra azienda con dieci posti di lavoro Quindi per noi è un motivo veramente di vanto Queste dieci unità lavorano esclusivamente su questo progetto tutto l'anno E ne siamo molto orgogliosi su questo Su questo obiettivamente è molto, per noi è motivo di orgoglio questa cosa Ci dà molta soddisfazione Questo è un po' il vostro segreto Diciamo che la passione sicuramente tutte le mattine è l'entusiasmo, la voglia di fare Perché se no, se si sta ad aspettare che il cliente ti chiami e ti dice qualcosa Direi che non ci si combina nulla Stai fresco come si suol dire Esatto, noi non produciamo solamente packaging ma cerchiamo proprio di creare nuovi posti di lavoro Cioè come imprenditore abbiamo l'onore e l'onere di fare questo mestiere e di riuscire E speriamo sempre di riuscirci Lo abbiamo voluto e cerchiamo di continuare a farlo Con costanza, con voglia e con tanta tanta passione Anche perché non è un packaging come un altro, è un packaging molto emozionale Estremamente emozionale Molto emozionale perché io personalmente cerco sempre Prima di presentare il mio prodotto Io devo sempre partire da un concetto Il prodotto del cliente al quale lui ha investito tempo, denaro e risorse Ha bisogno e vuole dare una sua emozione Il nostro dovere è quello di cercare di vestire il suo prodotto senza invaderlo E dare emozione una volta che viene a loro volta dato al cliente utente finale Questo è quello che cerchiamo sempre di fare Anna Laura Carella, secondo lei il segreto del successo qual è? Secondo me è proprio l'onestà nei rapporti È una grande, grandissima determinazione ad andare avanti A guardare al futuro senza fermarsi Cercando sempre di fare impresa con la collaborazione di tutti Mi suggeriscono qua nella vostra cartella stampa Anche che vi piace lavorare fianco a fianco con i vostri dipendenti Sì, è proprio così Questo è un altro segreto del successo Forse, forse sì Comunque noi arriviamo il mattino presto e stiamo con loro per tutta la giornata Quindi comprendiamo le loro fatiche e cerchiamo di risolvere dove è possibile anche le loro difficoltà Bene, grazie, grazie allora a Paolo Bonsignore e Anna Laura Carella Grazie a voi Grazie per essere stati i nostri ospiti Loro sono la BC Boncar di Bus Persizio, provincia di Varese Dove sono? Sono qua Eccomi, questi oggetti, questi packaging davvero particolarissimi, l'avete capito Che sono destinati proprio a dei prodotti che vogliono enfatizzare la qualità, l'unicità, il lusso Che in qualche modo rappresenta la moda made in Italy E non soltanto la moda, perché come avete visto anche l'occhialeria per esempio Tutto ciò che è prodotto di qualità Il nostro appuntamento televisivo torna per domani sera Sempre alle 20.30 su Sky, canale 821 Con tutti i nostri appuntamenti, con tutte anche le mie colleghe E col sottoscritto naturalmente per un'altra puntata Con altri segreti del successo, con altri top secret Con altri segreti del successo